Monita di Moleskine perché poco tecnologica, sono a dirvi oggi che indosso due make-up diversi. Uno che viene, euro più euro meno, ho controllato i prezzi prima, 68,48 euro e uno che viene 238,80 euro. Ora, l'ho fatto con quello che avevo a casa, quindi ho cercato, tra le cose che già avevo e che già avete visto nei tutorial, le alternative, brand economico e brand un po' più costoso e quindi se c'è leggermente differenza nei colori, tipo rossetto un po' più caldo, rossetto un po' più freddo, colore delle sopracciglia un po' più chiaro e un po' più scuro, questo dipende dalla colorazione perché non è che sono andata a fare spese per questo, ho cercato di farlo con quello che avevo a casa. Io non mi pronuncio su cosa penso perché vorrei che mi diceste voi, in base appunto al risultato e al tutorial, se questo che viene un meno di un terzo di questa parte è così diverso oppure se questo effetto giustifica un costo più di tre volte superiore. Diciamo che io sono per le vie di mezzo, però non dico altro, commentate, fatemi sapere e spero che il tutorial vi faccia fare due risate. Buona giornata! Non era preparato e quindi ho preso cose che aveva a casa, quindi l'idratazione l'ho messa qua dappertutto. Cerco di nascondere, ma forse mano a mano che metto le cose vedrete e vi renderete conto. Perché ho voluto fare questa cosa? Perché, allora, io lo ripeto sempre, io sono abituata a certi prodotti. Se imparate ad applicarli per bene, in realtà non è sempre solo il prodotto che fa la differenza, ma è anche il modo in cui lo applicate. Per il momento io ho steso due fondi diversi, ovviamente come vedete li sto stendendo con due pennelli diversi, perché se no si mescolerebbero, quindi uno e due. Passiamo ai due correttori. Con due pennelli. Il fatto che io utilizzi brand di un certo tipo, a volte è gusto, abitudine, ma è perché a me piacciono. Cambio, eh? E quello che io spesso vi dico è di capire il tipo di tecnica, non necessariamente dover farlo con lo stesso prodotto. Due pennelli diversi anche per le cipri. Intanto li state intravedendo, quindi avete già capito. Ho pensato potesse essere un tutorial interessante, poi fatemi sapere se ho pensato male. Sapete quel bello che io dopo ci dovrò anche uscire, quindi devo anche essere brava nel... Cioè non sto forzando la mano nel renderlo diverso, ma devo renderlo il più simile possibile. Avete già capito. È stato anche un po' complicato a casa cercare colori simili tra un brand e l'altro, eh? Speriamo di esserci riuscita, ancora non lo so perché l'effetto... Cioè da lì sembra, ma l'effetto finale ovviamente non l'ho visto. Cambio pennello. Così non mi potete dire... Ad esempio qui la colorazione è un po' diversa. Non parlo di texture, ma proprio di colorazione. E vi ricordate, questo l'avevo preso un po' troppo chiaro. Matite. Sarebbe interessante farlo pure con i pennelli, quest'ora che ci penso. Matita. Sfumatura a due mani? Impossibile. Voi avete dei brand che vi hanno deluso? Cambio. O di brand che vi hanno piacevolmente stupito? Fatemelo sapere perché piano piano cercherò di prendere e di comprare tutto, ma datemi il tempo. Però se c'è qualcosa che pensate, riprendo questo, sia valga la pena che io provi. E ditemelo così, cercherò di farlo. Passiamo agli ombretti. È un sacco che non la uso. Cerco di utilizzare gli stessi toni che saranno nell'altra. E vi faccio, vi replico fondamentalmente, quello che è uno dei miei trucchi. Ripeto, dopo devo uscire per andare a fare la spesa, quindi devo essere abbastanza simile. Non ho il tempo dopo di ristruccarmi. Punto luce lo passo con le dita, perché sono abbastanza a ritardo. L'intermedio lì c'è sì, tipo questo. E metto un po' qui. Riprendiamo un po' la riga pure qua. Vado in maniera speculare. Forse questa l'avete già vista. Cerco di ricrearli il più simile possibile. Prendiamo un po' più di questo. Prendiamo il chiaro sempre con le dita. Così anche l'aderenza è la medesima. Io la mia idea ce l'ho. Ma non voglio condizionarvi. Rifacciamo la riga pure di qua. Quindi io non mi sbilancio. Sono curiosa di sapere se, secondo voi, la differenza è così evidente. Quale avreste scelto e perché? Mascara. Di qua. Sono entrambi mascara che già mi avete visto utilizzare. Di qua. Però una punta in più. Riprendo sempre questa. Una punta in più di luce. Qui la volevo mettere. Lo so che non si fa dopo il mascara. Però mi vedevo un po' cupa. E riprendo questa. Non mi sono ancora data una colorata. Uso sto usando due terre. Come sapete faccio sempre questo. Cambio pennello. Di qua. E rifaccio sempre questo. Ho cercato di prenderli il più simile possibile. Sono due tinte. Le labbra a metà è difficile. Anche nella scelta di cosa utilizzare da una parte o dall'altra sono stata vincolata nel cercare a casa cosa avessi di simile. Il mio trucco veloce per adesso andare a fare la spesa è questo. E qui andiamo al skin. Di qua ho utilizzato correttore Maybelline. Fondo tinta L'Oreal. Cipria L'Oreal. NYX. Matita Rimmel. Palettina Max Factor. Mascara Maybelline. Tinta labbra Deborah. Terra Deborah. Di qua invece ho utilizzato correttore Nars. Fondo tinta MAC. Matita MAC. Sopracciglia MAC. Palette Anastasia. Terra MAC. Rossetto Inglot. Quindi di qua. La cifra di questo make-up. I prezzi euro più euro meno li ho cercati prima su internet. Questa parte viene 68,48 euro. Di qua ripeto sempre euro più euro meno. Capace che oggi essendo Black Friday ci saranno delle offerte. Quindi qualcosa io cerco di prendere i prezzi attuali. Questa parte di qua viene 238 euro. Io delle differenze le vedo. E io le mie valutazioni poi ve le dirò. Ma non vi voglio condizionare. Io non mi pronuncio. Spero di avervi fatto fare due risate. Buona giornata amiche mie.